Nicola Moltini, la vediamo soddisfatto, la moschea a Cantù non si farà, perché? Oggi è una grandissima giornata per Cantù, per i Canturini e per la Lega. Grazie a Roberto Maroni, grazie a Regione Lombardia, grazie alla legge regionale che è stata approvata pochi giorni fa, il Comune fa marcia indietro, il Comune si rimangia la parola e la moschea a Cantù non verrà mai più assolutamente fatta. Un grandissimo risultato, un grandissimo successo, uno schiaffo politico a un'amministrazione dannosa e pericolosa, una giornata importante per tutti i cittadini canturini.